bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e oggi ci siamo tornati a spacchettare oggi avremo 7 pacchetti e non apriremo che un video visto che li apriamo sempre visto che sono dispari stavolta facciamo 3 pacchetti e in altri 2 video facciamo questi 4 pacchetti che magari domani quindi direi di iniziare con il primo pacchettino qua e vabbè sta qua ce l'ho tripla è la terza che ho michel veloso diego farias pina monti dell'inter scusate mi suona il telefono scusate mi sono andato il telefono qui ne abbiamo 3 delternana e abbiamo breccia femminile mi ha definito la voce che era familiare che appena ho risposto non mi ha detto niente nicolas mkulu ah vabbè questo ce l'hanno tutti moise kane che non è quello del tottenham che ci ha segnati alla juve giancarlo giancarlo gonzalez che sfortuna non abbiamo vinto 3 del virtus entella e l'empoli che dovrei dovrei aver già è da un po' che non troviamo roba della juve immaginate se adesso troviamo quello della juve che io parlo per niente non lo so ho visto brillare ho visto brillare lucas castro mario dario da dainelli c'è un culo che va là dario danielli mario bianchetti ma matteo non mario scusate uccidetevi please basta ste vittorie basta oggi raga sono andati in edicola ho preso il pacchetto d'oro che faccia un mega spacchettamento c'è raga io non è possibile che ogni video che faccio di calciatori panini non è possibile mi sa che sto video li spacchettiamo tutti no dai mi hanno lasciato un bel mi piace 3 del palermo torno a palermo e lo scudetto dell'ascoli e dell'avellino io direi che apriamoli tutti in questo video a sto punto dai apriamoli tutti in sto video li apriamoli tutti li apriamo tutti cioè non è possibile che vinciamo ogni video riccardo saponara mario oikonomou questo ce l'ho già sorriantino dovrei avere anche questo già che sfortuna non ho vinto però vercelli questa ce l'ho quadrupla direi e 3 della cremonese non è possibile che ogni video io vinca c'è raga ormai basta uno del milan hakan cialanoglu interessato pandev anche questo c'è lo doppio perché l'ho trovata nello spacchettamento con papà e la mamma stefan radu che sfortuna non ho vinto lo stadio olimpico oddio se c'era però nella squadra della roma questa è della lazio cavolo va bene e 3 del brescia stiamo a aprire il penultimo pacchettino guabba oddio ho già visto film del campionato andrea nalini calidu culibali culibali avete trovato culibali vaizanen scusami vaizanen se non so pronunciare il tuo nome sfortuna non ho vinto 3 dello spezia e quante doppie avrò trovati sto video roma record 12 vittorie conseguentive fuori casa l'abbiamo trovata mi sembra nello scorso video si c'è nello scorso vedete i cacciatori panini ma non è possibile trovo sempre gli stessi c'è uno del bologna philip helander cloud ajapong newtink newtink e sbortuna non ho vinto e gasperini dell'atalanta mi sto riflettendo oddio riflette e 3 del cittadella che questo ce l'ho già mi sa un altro allenatore abbiamo trovato già piero gasperini che è il mister dell'atalanta va bene ragazzi abbiamo vinto un'altra volta spero che il video vi sia piaciuto come al solito se vi è piaciuto lasciate un commento mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanella noi ci diamo i prossimi video quando a mochile è tutto bella ragazzi grazie Grazie.